Ho organizzato questa giornata di prevenzione gratuita, quindi tutti i cittadini possono venire presso i nostri ambulatori tra le 9 e le 13 di sabato 23 maggio perché la diagnosi precoce del tumore del fegato è fondamentale. I tumori epatici sono molto frequenti nella nostra regione in quanto c'è un'alta incidenza di epatiti croniche, soprattutto le C. La diagnosi precoce permette una cura certa e sicura perché il tumore viene aggredito nella fase iniziale. Quindi sia chirurgicamente sia con metodiche di termoblazione, cioè di bruciatura, si può arrivare alla guarigione senza rischiare un trapianto di fegato. Non c'è bisogno di prenotazione, è solo sabato, è totalmente gratuita con volontari, a cominciare da me per la visita specialistica chirurgica all'ecografista dottor Jovino che è il nostro ecografista dell'Asle di Salerno e alcuni infermieri a titolo gratuito e come volontariato.